Il sindaco di Silvi fa delle conferenze stampa in cui denuncia una situazione di crisi idrica e dà la colpa all'ACA. Oggi Maurizio Acerbo invece ne fa un'altra dicendo che il sindaco di Silvi si dimetta perché è sua la colpa di questa situazione e di altri sindaci. In che senso? Io ho letto che il sindaco di Silvi scrive al presidente napolitano, che ha ben altri problemi, che fa lo sciopero della sete, che come Mosè vuole traghettare l'ACA da Silvi dall'ACA al Ruzzo, che denuncia il fatto, nella lettera napolitano, che ci sarebbe stata un'inerzia assoluta dell'ACA. Ora io faccio notare che un anno fa circa sono stati rinnovati i vertici dell'ACA-SPA. Il sindaco di Silvi, il comune di Silvi, si è espresso a favore della riconferma dei vertici, che tra l'altro erano sotto inchiesta della magistratura, lo sono ancora, anzi circa un mese fa sono intervenuti anche degli arresti del presidente Cristoforo. Allora voglio dire, il sindaco se lo può prendere solo con se stesso, perché altri sindaci, Rifondazione Comunista, altri partiti contestavano e dicevano che bisognava zerare e rinnovare completamente la gestione. Il sindaco di Silvi invece pare che fosse soddisfatto se votato a favore, quindi non facesse sceneggiate. Le società che gestiscono l'ACA hanno come azionisti i comuni. Quindi sono i sindaci che devono fare in modo che queste società funzionino bene. Queste società che sono S.p.a. vengono gestite male in maniera privatistica per fare clientelismo, per distribuire incarichi, consulenze, appalti agli amici per gli amici, aumentando le spese, ma non per garantire un buon servizio, per cui la depurazione non funziona, abbiamo il record di perdite. Ebbene, se tutto questo accade è perché si è trasformata l'acqua da bene comune, come deve essere, invece in una miniera d'oro per la politica.